Ehi gente, le chiacchiere dicono che questo cartone vi piacerà! Cuoce torta Cotta Pronto? Minnie, come sta la mia migliore amica? Bene, grazie, che stai facendo? Niente, tu invece cosa fai di bella? Ho appena finito di cuocere la mia famosa torta di mele Famosa? Non sapevo che esistesse, sai, mi piacerebbe tanto poter assaggiare una torta di mele famosa Davvero? Oh, beh, allora te la porto subito, così mi dici com'è D'accordo, starò qui tutto il giorno Ehi là! È arrivata la famosa torta di mele! Papirina? C'è qualcuno? C'è qualcuno? Oh, beh, proviamo la porta sul retro Chi è? Papirina, mi senti? Chi è? Oh, ma dov'è? Noi ma dov'è? Grazie a tutti. Ah, il campanello non funziona. Oh, dovrei tentare ancora. Sì. Oh! Paperina! 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 Oh, ma dove è andato a finire? Paperina! 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 Spero proprio che ti piaccia questa famosa torta di mele! Oh! Finalmente! Crema abbronzante! Benvenuti alla spiaggia Contento che le avrei portato una tonta ingira puntino Che carino Basta così, questa torta verrà consegnata adesso Portatela via ragazzi Lasciatemi, aspettate, no, voi non capite, lei deve assaggiare la mia torta Non ci posso credere Minnie, sei la mia migliore amica e sei entrata in casa mia di nascosto Stavo solo cercando di portarti la mia torta Davvero? E ce l'hai ancora? Ma certo che ce l'ho Buona, eh?